Sì, 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 beh mancano i miei cognomi, così, ecco, allora vediamo tra i tiratori di Renate, anche il vice sindaco, perché mi è risolta la vita a un bimbo di un ragione per tenere il tratto, e io sono qua per questo, sono stata in Renate e ne ero in tratto. Ricordiamo che per un regalo si pensa tecniche una riccicina di Castiglione. Vai vice! Grazie! Benvenuti! 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 Vieni qua! Vai, vai! A posto! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! awv Vai, 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 vai. e vai e vai Grazie. 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 Comincio Lunate Cettino contro Lecate Moresino. Quindi Lecate Sesti, Lunate Quinti. Adesso andiamo a fare la finale terza e quarto posto che sarà tra Castelfoprio e Abbiate. Castelfoprio e Abbiate. Braggi. Grazie mano. Grazie. Oh ho, andiamo subito. Grazie. Saldate. Amaci. Saldate. 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 Dato. Padre. Paglio. Grazie. 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 Grazie.